I vigili del fuoco di Alessandria sono intervenuti a Bassignana, comune del Valenzano, intorno alle 22.00. L'intervento si è reso necessario in Via Roma perché in una casa che tra l'altro ha avuto anche una recente strutturazione, vi è stato un incendio che ha preso fuoco nella parte alta, quindi il tetto e la mansarda e le cause sono in via di accertamento. Non ci sono fortunatamente feriti o persone lesionate, ma gli abitanti hanno dovuto trovare una famiglia, hanno dovuto trovare ricovero presso amici o parenti proprio perché la parte della casa più alta è stata resa inagibile dall'incendio.